Matelica Milano Sanremo non è una tratta ferroviaria ma il triangolo della moda made in marche creato dalla 32enne Francesca Cottone. La giovane stilista marchigiana, proprietaria dell'omonimo brand fondato nel 2018, ha esportato all'Ariston e nelle passerelle milanesi le sue creazioni sartoriali nate nello studio di Matelica. Ho deciso a 18 anni di rincorrere questo sogno che covavo un po' e sono partita a Milano col supporto della mia famiglia per andare a studiare in Marangoni Fashion Design. Da lì ho cominciato un percorso un po' di gavetta. Poi dopo nel 2017 ho cominciato un po' a dirmi però io ho proprio voglia di crearmi un po' il mio team, di cominciare anche a vedere le cose che io disegno, farle diventare reali e ho detto io ci provo. E ho detto io torno a casa però. Dal direttore d'orchestra del festival Enzo Campagnoli a Gianni Morandi passando per i ricchi e poveri sono molti VIP ad aver scelto i suoi outfit per partecipare ad eventi, videoclip o copertine. La qualità del prodotto. Noi marchigiani siamo famosi comunque appunto per riuscire a dare sempre delle eccellenze. Ora la partenza per Parigi per la Fashion Week di fine febbraio. Qui presenterà la nuova collezione invernale per il 2025 portando nella capitale dell'alta moda l'inconfondibile artigianalità marchigiana. L'ultimo invernale l'ho scattato a San Vicino tra la neve dove tantissime persone di Milano mi hanno detto ma dove siete andate al nord Italia? Faccio no, in realtà siamo a Matelica.